Soprattutto gli RTS, una città che spende meno per illuminare, illuminamento, dicembre di cose che portano a questo progetto. Sì, un bel progetto, un grande investimento per Marche Multiservizi che passa dal semplice gestore di corpi illuminanti a una specie di global service per quanto riguarda l'illuminazione pubblica. Sono previsti in tre anni investimenti per 5 milioni di euro che andranno a sostituire tutte le lampade a vapore di mercurio con 4 mila lampade LED, una rivisitazione anche delle strutture laddove sarà necessario andare a cambiare il palo con un fortissimo risparmio energetico, equivalente al risparmio economico, che verrà reinvestito proprio nel modernamento stesso del sistema di illuminazione. Una città che si dota di un sistema contemporaneo, in grado di supportare anche gli strumenti legati alle dinamiche delle smart city, delle città intelligenti, reti, wifi, servizi da poter dare attraverso l'illuminazione pubblica, il cambiamento più forte lo si percepirà quando non vedremo più i pari accesi la notte a una certa ora o un simono, che era il sistema, chiamiamolo, tradizionalissimo, che negli ultimi 30 anni si utilizza per risparmiare energia ma che crea quelle zone di luce e ombra non ottimali per la sicurezza stradale. Quindi si va anche da una ottimizzazione da questo punto di vista con corpi illuminanti che a una certa ora chiaramente ridurranno l'intensità del flusso luminoso ma rimarranno accesi. Il primo assaggio lo daremo in Viale Trieste e Piazzale Colenuccio, ovviamente con lo stile del centro Piazzale Colenuccio del mare Viale Trieste, andando a portare dalla sfera grande di Pomodoro fino alla zona del porto questo cambiamento di luci tutte led del posto delle vecchie lampade che è il mio fuori di Mercurio e per quanto riguarda questa riconoscia anche con un'attenzione, una parte del centro storico, con il mio senso, ma che dia valore anche alla qualità, chiamiamola, artistica della rete del luogo. Siamo a primi due assaggi, quindi quello che sarà un grosso intervento, un grande cambiamento, un bel salto di qualità per l'innovazione pubblica nazionale.